Ma che ci frega a noi, dai su, siamo sopravvissuti, siamo sopravvissuti, che ci frega, dai su. Allora, siamo tornati dopo un periodo abbastanza lungo, ovviamente il pensiero va a tutte le persone che comunque hanno avuto seri problemi, tanta gente ha perso, anche persone gare. Siamo attenti, non farò discorsi strani, quindi vi dico solamente state attenti e rispettiamoci l'un l'altro. Grazie. Come on, Donne! Come on! Come on, Donne! Oh, Donne! Siamo tornati dal mio territorio, e non c'è ancora un raro. I situatori virgente, che c'è ancora un pezzo più pianoché, č molto iěncer64, e a me sta atentamou¿Tour to should be proper! Luce, 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 me ties! Luce, luce, me ties! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.